BELLA RAGAZI, SIAMO I GRANANZ, DEVO TARDI CON UN NUEVO VIDEO DA BLINDFALL CHALLENGE Andate a vedere quello passato, che è questo qua, che tanto qua non metterò mai qua Se volete vedere quello passato, oggi sarà lui ad indovinare i cibi che ho fatto io E niente, partiamo subito, lo è già bendato, non con le mutande stavolta No, le sue mutande non me le metto in testa, mi dispiace E quindi andiamo a cominciare, vado a prendere subito la roba Allora, volevo farvi vedere intanto come ho presentato il piattino, perché è troppo bello, cioè Guardate che roba, che colori Sto a vedere pure io Allora, cominciamo col primo, che è una cosa semplice, semplice Devo scappicarlo Devo annusare anche Vai, annusa, vai Dai, che buono questo Cos'è? Cazzo Dai, beh, è buono Almeno un ingrediente, come sai di? Formaggio, tipo Sì, è un formaggio, però cosa? Chiaro, viola, dolcezza No È il primo sale, che cazzo Allora, ti dico il formaggio qual è? È la linea, questa qua Allora, linea non è che si chiama formaggio Si chiama linea No, non toglie, non toglie C'è il piatto davanti Non toggo E poi? Marmellata No, non è marmellata Non è marmellata È una salsa È un altro dolce Bravo Non guarda Che guarda, come faccia Allora, questo è il secondo A me non sa Dai, che non è niente di che Che cazzo è via? Eh, dai Olive Sì Eh, dai che è buono Nutella No, non è Nutella Qualcosa ci si avvicina, però Cioccolata, che cazzo è? Eh, quello che si cattiva il latte? Cacao Bravo Mamma mia, che schifo Dai, che sto buono Ma che cazzo dici? Ah, Dio Che cazzo ti rieso? Allora, andiamo col terzo Vai Come il pollo Sì Pollo e Pollo e zucchero di canna Bravo Mazzavo pure lo zucchero di canna Andogliario Grandissimo Grandissimo Dai, che buono Ma buono che è Guarda che quello che c'è buono Eh, come no Ah È buono il pollo Allora il zucchero di canna Mamma mia Adesso Andiamo con la penultima Vai Non hai niente di che Tranquillo Cos'è? Che cavolo è? Ma anche uno, riconosci? Neanche l'ingrediente? Cosa cazzo è? Ok, ciò con Greg Uno l'hai preso, dai Non è per capire la cosa che c'è sta sotto E l'altro? Cos'è? Un frutto Arancia No? Cazzo è? È aspro, una cita Brugna No No, non è brugna Che era? Non riesco a capire sopra che ci hai messo Limone Ah, non era male Eh, l'ho detto Adesso l'ultima Tranquillo Io non so se non so come te Adesso non mi avvicino Vai Va bene, un uvella Eh, poi? E poi ho paura a masticare questa cosa Che mi hai dato Mastica Ah, sì, cazzi Non si spacca? Come non si spacca? Dai, chi è? Che cazzo è? Che cazzo è? E' provato a dovinare Che cazzo è? E' provato a dovinare E' provato a dovinare Non si spacca? Che cazzo è? Cazzo è? E' come stivile Spennati Oh Dio Oh Dio Oh Dio E' oh, la devo fare, dopo il wasabi la devo fare, mi ti piace, ma c'è stata tutta, ho preso la mia rivincita, dai io te wasabi, com'era? A che esa progettavia? Ostia E' ostia Buon'avere Riebie Va bene ragazzi, dal non gire del coniglio e da quello che se l'è mangiato oggi cresceranno i denti E catastrophico, non la mappa Sento molto, ma quantoテ Comunque... Se vi è piaciuto lasciate Dove мо nä cámara se è costratto in mezzo ai denti Lasciate il 3000 like se vi è piaciuto questo video Perché li merita Uno che si è mangiato la cosa del coniglio Se li merita direi Niente condividete se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Mettete like alla pagina facebook E passate tutti i link in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella